salve a tutti amici un saluto al vostro corredo esposito personal trainer eccoci qua ragazzi oggi parliamo di definizione di dieta e di quelli che possono essere diciamo li ho titolati effetti collaterali ma che non lo sono poi sono delle comunque conseguenze dovuta alla dieta per la definizione è chiaro ragazzi che io mi riferisco a chi comunque mette peso deve togliere diverso peso ha la tendenza a ingrassare come me un metabolismo rallentato perché magari c'è gente che già non ama il cibo in generale quindi non ha problemi a mettersi a dieta quelli non avranno questi problemi è chiaro che c'è gente che pesa 60 kg deve arrivare a 55 perdere 5 kg non impone una dieta così importante qua parliamo di chi come me deve perdere 20 kg e in più ama mangiare perché il discorso per sempre quello quanto ami mangiare io sono uno di otto mi piace mangiare adoro la pizza i dolci adoro tutto quello che è grasso io quando non sto a dieta ragazzi fino a due mesi fa un mese fa mangiavo il pan mangiavi dolci mangiavo le roba fritta mangiavo di tutti di tutte le zozzere del mondo ora non più perché ora chiaramente passare da una dieta ricca di questi alimenti non proprio salutari però che comunque io alternavo poi faccio sempre molta attività fisica passare una dieta dove questi alimenti qua vengono assolutamente eliminati la cosa cambia cambia tanto cambia perché ti va a modificare anche a livello mentale il tuo atteggiamento il tuo modo di fare perché perché le energie vengono meno vengono meno energie e cambia tutta la filosofia di allenamento allora come sempre vi voglio invitare per iscrivervi al canale a lasciare un like allora ragazzi io sono entrato nella terza settimana adesso sono 7 14 sono quasi 20 giorni che sto a dieta quali sono le cose che mi pesano le cose che mi opprimono di più le cose più pesanti da affrontare allora innanzitutto c'è a livello mentale un calo inevitabile su tutto sull'ambito lavorativo prima avevo molta più voglia di fare tutto ora sto sempre un po col freno a mano tirato qualsiasi cosa debba fare perché purtroppo le energie vanno gestite alle volte mi sento proprio senza energie alle volte mi sdraio sul letto e dico ora 10 minuti devo stare così fermo immobile perché non mi posso concedere pisolini una volta potevo fare anche un bel pisolino e quello mi aiutava tanto ora non è non posso fare più neanche questo perché comunque non riesco non riesco e anche la notte dormo ma dormo mi sveglio mi rigiro è un po un problema contando che io purtroppo ritmi e turni di lavoro veramente diversi dagli altri in quanto contati che sono te mi sono messo a letto alle 3 mi sarò addormentato alle 4 e mi sono svegliato alle 11 di te però corrati svegli tardi è però ragazzi io la notte la sera non c'è un limite quando faccio le live video cioè non ho limiti e quindi a livello mentale il lavoro mio che anche un lavoro dove spesso devi pensare gli argomenti sia su questo canale sia su quello della formula 1 devi pensare gli argomenti devi pensare cosa dire non è facile a livello mentale un po lo sprint è calato già a livello fisico mi sento più debole è inevitabile ragazzi non potete non sentirvi più debole se fate una dieta per la definizione perché abbassati grassi abbassate soprattutto i carboidrati il corpo giustamente va in deficit calorico e ha delle mancanze io alle volte ho degli attacchi di fame poderosi che riesco con cui riesco cioè riesco a resistere a questi attacchi di fame ma non è facile perché poi prima era abituato facevo un video alle 4 4 e mezza facevo lo spuntino scendevo sotto mangiavo pane spunti oppure volevo mangiarmi una merendina mi mangiavo la merendina la sera finì a fare la live stessa cosa ora purtroppo scendi sotto e proteine proteine in volve proteine da bere proteine qua proteine là non puoi mangiare nulla e questa sta cosa un po ti devasta mentalmente in certi momenti della giornata perché avresti voglia di mangiare molto di più avresti voglia a volte di ingozzarti un segreto vi posso dare già da ora e acquistare una serie di piccoli alimenti che potete mangiare in maniera sfiziosa ma che non vanno a diciamo rovinare quello che è l'apporto giornaliero io ragazzi più o meno sto facendo in questo momento perché me l'avete chiesto sto facendo 2,2 più o meno grammi di proteine per chilo corporeo 500 grammi di carboidrati al giorno e una novantina di grammi di grassi al giorno questa è più o meno la soglia che di quello che sto mangiando io nell'arco della giornata ci sono su parecchi siti ma vi consiglio prozis tra cui fra poco sarà disponibile anche il nostro codice sconto che avevamo attivato si è bloccato per un mesetto fine maggio adesso torna disponibile vi darò il codice sconto di supercorris in modo che potete prendere roba su prozis scontata anche su prozis faccio un esempio c'è tutta una serie di dolci dolcetti ma pure piccoli di piccole entità sfiziosi e che non hanno grassi sostanzialmente lo so non so edulcorandi aspartame certamente sono fatti di questa roba qua però se ne mangiate uno ogni tanto quando proprio siete arrivati al limite nella fase di dieta durante la settimana che magari siete lontani io per esempio mi concedi il sabato tutta la giornata di sgarro se siete come oggi al mercoledì e proprio siete arrivati mentalmente che ci avete voglia di qualcosa di sfizioso e mangiato un dolcetto di quello non vi fa nulla nell'arco di una settimana non vi fa niente perché comunque riuscite poi a compensare con gli altri passi con l'allenamento io questa settimana ragazzi ho cambiato l'allenamento ho iniziato a fare un metodo HIIT per il cardio ieri ho fatto 35 minuti di cardio ho fatto i primi 10 minuti alternando 30 secondi di spinta di sprint con la cicletta 30 secondi di assoluto riposo pedalando pianissimo poi ho fatto gli altri 10 minuti facendo un minuto di sprint un minuto di riposo e poi ho fatto fino al trentacinquesimo minuto facevo 4 minuti barra 5 di sprint certamente non come lo sprint di 30 secondi comunque pedalando velocissimo e due minuti di riposo vediamo se questo allenamento mi aiuterà a bruciare di più perché col cardio standard di 40 45 minuti potrei avere dei problemi questo allenamento come vi ricordo andate a vedere il video vi permette di bruciare anche quando siete fermi cambierà anche un po l'allenamento con i pesi stasera vi farò vedere un video su questo canale dove farò vedere faccio un piccolo circuito per i dorsali tutto macchinari macchinari pesi comunque non a corpo libero dove cercherò con questo circuito di bruciare ancora un po più di grasso e definirmi meglio perciò ragazzi ci sono dei piccoli stratagemmi per esempio compratevi una bottiglia di coca cola a zero mettete in frigorio ci avete fame ti bevi mezzo bicchiere di coca cola attutisce ti dà quella sensazione che non hai più fame per un po di tempo cioè queste sono le cose che potete fare perché se siete come me amanti del cibo e del mangiare e vi mettete a dieta questi sono problemi che avrete l'energia durante l'allenamento è bassa ecco perché sarebbe il top allenarsi la mattina nel primo pomeriggio quando uno conserva ancora delle energie però per tanti di voi ma anche come per me è un problema fare gli allenamenti a quegli orari e quindi è chiaro che la sera devi cercare di raccogliere le tue energie e allenarti non è facile però ragazzi vi dico sempre quando vi scoraggiate quando non vi sentite in forma visualizzate l'obiettivo visualizzate la foto di un grande campione che vi piace che vi stimola guardate video motivazionale oppure visualizzate la vostra forma fisica di quest'estate al mare tirati e quello vi può aiutare vi potete motivare mille voti pensando di conquistare una ragazza pensando di fare un risultato in una gara cioè ci sono mille modi per motivarsi però non dovete mollare a livello mentale se ne cala un po ma se ne cala anche la voglia di fare baldore vi dico la verità per chi esce magari potete avere meno voglia di uscire ma anche la voglia di uscire con una ragazza di farci sesso e raga è la verità io quando facevo le gare tutto facevo tranne che fare sesso con la mia ex perché non c'avevo voglia perché mi se ne calava tutta l'ambaradam mentale di dire no mo lo facciamo qua là ero concentrato e anche in periodi intensi di mass di definizione di momenti di definizione importanti avevo poca voglia molta poca voglia è chiaro ragazzi che vi dico a livello mentale vi dovete gestire tanto perché anche a livello di concentrazione uno può avere dei problemi di più a concentrarsi può avere problemi di più a ricordarsi le cose è normale è normale ecco perché io prendo comunque 4 caffè al giorno mi integro con il bruciagrassi a base di caffeina che oltre ad avere un effetto bruciagrassi per il corpo aiuta anche la concentrazione la caffeina è uno degli stimolanti naturali per la concentrazione più potenti quindi ragazzi le problematiche sono molteplici attacchi di fame attacchi di tristezza poca voglia di fare le cose poca energia anche durante l'allenamento vi stancate prima vi stancate di più avete meno forza è inevitabile però dovete capire che tutto fa parte del gioco quindi chi pensa eh no ma io voglio continuare a fare 130 kg di panga pure in definizione non ti serve non ti serve tu in definizione mettini 80 di chili e lavora bene perché poi quando vedi il fisico tirato che sembri più grosso di quando eri grosso e massoso quelle sono le soddisfazioni a livello mentale la dieta per la definizione va molto gestita perché mentalmente è stancante è una dieta che vi può portare alla deriva tante volte io ho avuto degli attacchi di fame che mi sono mangiato in un giorno 7000 cose ecco perché mi concedo un giorno di sgarro ragazzi un giorno di sgarro per chi si allena in altissimi livelli non esiste io quando facevo le gare c'avevo una serata a settimana ne mangiavo un paio di pizze ora non mi basta le gare non le devo fare mi concedo un giorno intero di sgarro e non mi interessa sostanzialmente perché non ce la faccio altrimenti so che per molti è sbagliato ma è la mia filosofia di vita e io quel giorno mi voglio mangiare quello che voglio altrimenti mi sentirei davvero male cerco di recuperare e compensare nei giorni successivi perché è chiaro che se lavori tanto se c'è tanto impegno e tanti impegni non è facile poi sgarrare solo una serata ogni tanto è impossibile quindi le energie calano però se siete concentrati sul focus il risultato arriva io tutti gli anni che ho fatto la dieta per la definizione poi mi sono ritrovato tirato, definito, snello cioè avevo una soddisfazione dentro di me poderosa e incredibile ne vale la pena, certo che ne vale la pena se siete motivati a farlo se non siete motivati ragazzi rimanete come siete che tanto cioè è una soddisfazione più personale che poi anche gli altri notano certamente se hai un gran fisico e vai in giro tutti lo notano però è una soddisfazione personale io non l'avrei mai fatto per far piacere agli altri all'inizio i primi anni lo fai per le ragazzette quello e quell'altro poi se non sei concentrato su di te non lo puoi fare perché non vale la pena e sono quasi 24 anni che mi alleno di continuare a fare queste cose per piacere agli altri lo fai per te per la tua soddisfazione personale fatemi sapere che ne pensate ci vediamo nei prossimi video ciao ciao ciao